Al Cinema Loreto di Pesaro si è tenuta oggi l'Assemblea Generale della CGL che ha ospitato più di 300 delegati appartenenti ad ogni declinazione confederale della provincia di Pesaro Orbino in quella che è stata la prima tappa di una mobilitazione che sarà ampliata a livello nazionale sui temi di sicurezza sul lavoro, rappresentanza, equità fiscale e autonomia differenziata. Un'assemblea alla quale hanno partecipato anche il segretario regionale CGL Santarelli e la segretaria confederale nazionale Maria Grazia Gabrielli. Questo diventa un momento di partenza per una fase di mobilitazione articolata che si svolgerà con più iniziative di carattere locale e nazionale rispetto dei temi estremamente importanti a partire da salute e sicurezza sul lavoro, l'11 di aprile avremo una giornata di sciopero dei settori privati, il 20 di aprile a Roma faremo una manifestazione nazionale in difesa del servizio sanitario nazionale e di tutto quello che attiene anche il tema del fisco e anche della salute e sicurezza. La nostra iniziativa soprattutto è incentrata sul fatto di rimettere in moto la democrazia, partire dai luoghi di lavoro, rifare partecipare lavoratrici e lavoratori rispetto a quello che avviene nel paese perché invece la tendenza nel paese che avanza è quella invece di una delega diretta. Se guardiamo quella che è la proposta di riforma costituzionale che il governo sta cercando di varare attraverso il voto diretto al primo ministro si va verso una tendenza opposta. Noi invece crediamo che vadano riannotati i processi democratici e anche lo strumento del referendum che abbiamo deciso di mettere in campo e su cui proveremo a raccogliere le firme nelle prossime settimane, nei tre mesi di maggio, giugno e luglio, ha anche questo profondo significato. Intanto uno sciopero di quattro ore per l'11 aprile insieme alla UIL per rivendicare due delle grandi questioni che il sindacato pone con forte attenzione nel paese. Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che è diventata l'emergenza del lavoro e che quindi va affrontata con strumenti e azioni molto incisive, il tema della sanità pubblica e quindi del ruolo del pubblico che riguarda gli investimenti per il futuro di questo paese e per il rispetto anche e soprattutto della nostra Costituzione rispetto al diritto alla cura e alle condizioni delle persone. La questione fiscale, perché in questa fase si sta discutendo di una delega fiscale nel governo che però non è incentrata alla equità e progressività e quindi ancora una volta non prendendo in considerazione quanto pesa la questione fiscale sul reddito delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate in una condizione di oggettivo disequilibrio che il nostro paese vive dove non si vanno a prendere le ricchezze laddove ci sono e dove quindi il tema dell'equilibrio fiscale diventa anche una questione di giustizia.